voi avete carta modelli in formato pdf chi non ha il programma che legge documenti in formato pdf potete scaricare gratuitamente da internet cliccando nella pagina info del vostro corso e li troverete il link per accedere a questo programma il programma è gratuito e si scarica facilmente dopo di che aprite blocco delle gonne le gonne avete in un unico file in un unico blocco diciamo come potete vedere se non si vede bene perché videocamera molto alta perché insomma c'è la grandezza del di tutto il formato come potete visualizzare allora il file pdf viene stampato normalmente come qualsiasi altro documento una volta stampato posizionate fogli in sequenza numerica a secondo del tipo della stampante vostri fogli possono avere la zona non stampata sono più o meno 5 mm però questo non significa che c'è margine di stampa semplicemente zona non stampata quindi carta modello qui linea prosegue i stampanti a laser non hanno la zona non stampabile diciamo e stampano tutta la pagina intera mentre i stampanti quelli a cartuccia più classici hanno questo spazio che non viene stampato per questo motivo c'è un quadrato di 10 cm per controllare effettivamente la scala della vostra stampa la scala impostate 100 per cento e a una volta stampato i fogli dovete incollare senza alcuna sovrapposizione così vicino senza sovrapporli sono indicate le taglie dopo di che dovete scegliere la propria taglia e ricalcare la taglia giusta quella che vi serve insieme alla gonna ha legato anche un foglio con tabella delle misure le misure ho indicato soltanto circonferenze del seno vita e del bacino in quanto le taglie sono standard per cui è importante regolarsi nelle circonferenze e tutto il resto del corpino di altezza della persona del corpino bisogna un pochino modificare quello che vi spiego più avanti e questa è la gonna mentre carta modelli base per un abito tubino lì c'è la base con ripresa del seno e con la manica manica ha una ripresa per avere una forma più carina questi carta modelli sono in un formato pdf separati ogni taglia in un documento separato e poi c'è un altro particolare il formato di questo cartamodello è grande non è diviso a informati piccoli a 4 non era possibile dividere così come la gonna in fogli a 4 non chiedetemi perché è troppo lungo da spiegare comunque questi file sono il documento pdf in realtà delle dimensioni di 83 cm per il plotter che è il minimo e poi lunghezze possono essere un metro e trenta poco più poco meno a secondo della taglia allora per stampare questo cartamodello noi dobbiamo stamparla come poster ogni stampante anche più semplice a giorno d'oggi ha questa opzione cliccate sulla stampa e dovete scegliere come stampa poster a destra vi si visualizza subito la griglia di fogli che dopo successivamente verranno stampati importante che voi spuntate casella indicazioni di taglio perché in questo caso margine della pagina esiste e bisogna tolirlo o sovrapporre i fogli uno sopra l'altro questo è un frammento di due pagine del modello che ho stampato quindi eccoli qua questi indicatori questo significa che hanno e ci sono in ogni angolo della pagina questo significa che qui c'è margine potete ritagliare una pagina e poi posizionarla così vicino agli indicatori oppure sovrapporre pagine senza tagliare visto che pagine comunque sono trasparenti si vede questa stampa qui come preferite e questo è indispensabile per incollare cartamodello senza distorsioni poi foglie visto che la stampa è per il poster non sono numerati ma questo non è un problema perché la stampa va dall'inizio alla fine quindi voi una volta presi fogli stampati cominciate a posizionarli dall'angolo destro da destra verso sinistra come vedete dalla stampa sono cinque pagine quindi cinque pagine iniziate dal basso verso l'alto e poi tenete aperto il file pdf per vedere posizione del modello e così credo non sarà difficile comporre il nostro cartamodello in un unico foglio seguendo disegno logico del modello una volta ritagliata la base che vi serve bisogna fare alcune verifiche delle misure in quanto la base è una taglia standard realizzata per altezza media di un metro e sessantaquattro quindi noi avendo ognuna altezza diversa dobbiamo verificare varie misure inizierei a misurare prima altezza del busto o lunghezza sarebbe più corretto così misurate da questa zona che è la base del collo da dove prendiamo altezza seno e lunghezza vita e misurate perché sappiamo che con la stessa altezza con la stessa statura ogni persona potrebbe avere il busto un po' più lungo o un po' più corto rispetto alle gambe quindi misurate con centimetro e vi consiglio di misurare con lo stesso centimetro con il quale avete preso le misure dalla figura perché anche i centimetri sono gli stessi però può capitare che danno qualche margine di differenza immaginiamo che questa lunghezza vita davanti più corta rispetto alla vostra quindi dovete allungare il busto viene allungato al centro lo spazio visivamente diviso in due tra livello del giro e punto vita prendo foglio di carta voi prendete carta per modelli e appoggio sopra e allungo in questo modo il corpino la stessa manipolazione facciamo anche il dietro subito così da non pensarci più di solito differenze sono poche si tratta di qualche centimetro di 2-3 centimetri forse fermo parte del modello con lo scotch misuriamo anche altezza seno possiamo misurare sempre dalla base del collo arrivando qui o qui in linea perché altezza seno si trova così in una linea retta sempre quella perciò se altezza seno un po di più rispetto al cartamodello basta unire questo punto ecco con la riga perché se no e ritagliate la parte questa qui magari qui si tratta di un centimetro mezzo centimetro e larghezza che viene mangiata dal corpino pertanto qui dopo si potrebbe considerare questa differenza soltanto così questo nel caso se altezza seno è più grande per cui per non restringere troppo corpino recuperate questi 5 mm dopodiché dobbiamo posizionare vicino davanti e dietro unendo vertice del lato delle cuciture laterali qui perché ho incollato la carta per cui giro questo pezzo di carta se no scomodo e dobbiamo unire il bacino insomma dobbiamo posizionare in modo tale che questa base deve sembrare intera come se fosse ancora sulla carta e ora dobbiamo controllare le cose importanti che sono tre circonferenze quella del seno della vita e del bacino prima cosa controlliamo circonferenza seno questa zona qui io vi faccio vedere con centimetro ma non guardate i numeri perché modellino in scala prendiamo centimetro prima di tutto tracciate questa linea dritta deve essere perpendicolare al centro del davanti questo essenziale per misurare bene questa linea passa esattamente a tocca il giro e definisce infatti è profondità del giro manica ma anche circonferenza seno misuriamo circonferenza seno questa distanza sarebbe circonferenza seno più vestibilità per il seno divisa in due perché metà del cartamodello nel vostro cartamodello e vestibilità per circonferenza seno per un abito turbino è di 7 cm ovviamente può essere modificata quindi ora vi spiego come si fa se vestibilità che preferite se preferite lasciare 7 cm che sono non sono pochi ma ne tanti per un abito turbino ma non vi corrisponde circonferenza seno non corrisponde alla vostra dobbiamo aggiungere soltanto la differenza senza fare alcun conteggio ossia se circonferenza seno per una taglia 42 è di 88 cm e voi invece avete ad esempio 91 cm e avete scelto taglia 42 perché 44 porta 92 cm di circonferenza però tutte le circonferenze vostre corrispondono alla taglia 42 ovviamente dovete scegliere 42 se non vi va di stringere tutto quanto a quel punto dobbiamo soltanto aumentare circonferenza seno quindi facciamo questo conto tra 88 e 91 sono solo 3 cm in tutto diviso 2 saranno un centimetro e mezzo significa che qui in questa lunghezza questa che abbiamo misurato manca un centimetro e mezzo significa che dobbiamo aggiungere 7 mm per parte semplicemente 7 mm per parte e scendendo verso il lato se invece vi piace aggiungere anche vestibilità a quel punto dovete aggiungere anche vestibilità che vi manca se un abito tubino porta 7 cm e voi vi servono magari 8 basta aggiungere un centimetro sono 2 mm per parte perché 4 parti no? e aggiungete semplicemente ancora oppure facciamo conto regolare cambiamo vestibilità carta modello standard 88 più 7 cm fa 95 95 diviso 2 fa 47 e mezzo significa che qui qui avete 47 e mezzo invece voi avete circonferenza seno invece voi avete circonferenza seno 91 cm ad esempio e vestibilità vogliamo 8 cm quindi facciamo 91 più 8 fa 99 99 99 diviso in 2 fa 49 e mezzo da 47 e mezzo a 49 e mezzo mancano 2 cm 2 cm in tutta questa lunghezza quindi 1 cm per parte a quel punto andiamo ad aggiungere 1 cm per parte penso che il concetto sia chiaro lo stesso conto facciamo con il punto vita ovviamente punto vita dobbiamo misurare così spazi tra riprese della vita e fare lo stesso identico conto la stessa cosa sul bacino è più semplice e poi nel caso fosse necessario possiamo aggiungere 1 cm mancanti anche al bacino e così via penso è abbastanza semplice poi ricordatevi se aumenta tanto larghezza del corpino dovete dividere corpino qui e allargarlo leggermente oppure dovete ridisegnare spalla e allargare la zona del giro ma di solito se la spalla un po' più lunga o un pochino più corta si tratta di pochi centimetri perché quando si tratta di tante differenze ovviamente andiamo sulla taglia più grande non c'è senso allargare tanto tipo di 2 taglie una base piccola giusto? quindi quello che vi sto spiegando è soltanto piccole modifiche quando si tratta di pochi centimetri così abbiamo sistemato la nostra base ora bisogna preparare tela, un campione di prova e misurare per sicurezza lasciate margine laterale di 2-3 cm nel caso vi serve allargare ancora oppure di restringere in ogni caso margine bisogna sempre lasciare un po' di più per lavorarci perché poi viene tagliato con la gonna è tutto più semplice ancora misurate sempre circonferenza del bacino più vestibilità posizionate parti della gonna vicino e prendiamo centimetro e misuriamo questa distanza sarebbe circonferenza del bacino più vestibilità divisa in 2 metà vestibilità per una gonna a tubino mi sembra che ho fatto un centimetro un centimetro secondo me è un tubino perfetto aderente al punto giusto quindi se vi piace la gonna un po' più lenta è sufficiente aggiungere al lato un altro centimetro non di più misurate anche circonferenza della vita circonferenza della vita nella gonna non porta nessuna vestibilità quindi zero è solo misura pertanto se circonferenza vita vostra è un po' più grande la stessa cosa aggiungiamo da parte ai lati un centimetro uno e mezzo quello che serve dopo di che andiamo a fare sempre un campione di prova per vedere come sta la base e soltanto dopo possiamo fare modellistica di qualche modello un po' più complicato che proprio attatti scegliamo scegliamo con la monta piccoli Grazie a tutti.